Feder Alberghi è pronta alla nuova stagione turistica, quali sono le aspettative? Sì, Feder Alberghi è pronta, gli albergatori ci credono, i numeri ci sono, buone prenotazioni. È chiaro che i conti si fanno a fine anno, però i numeri ci sono. Il problema è che chiaramente si ripercuote quotidianamente, quest'anno ancora di più, è purtroppo una carenza di personale qualificato. Non vorrei che pur di aprire, pur di trovare soluzioni, succeda un effetto boomerang, nel senso che scontentare il cliente. Dobbiamo crederci tutti, il 20 di aprile avremo il Ministero della pubblica istruzione, ci sarà un confronto importante a Stresa, dove andremo a mettere a fuoco tutte le nostre esigenze, anche con i sindacati, per vedere di trovare delle soluzioni, ma soprattutto per offrire opportunità al mondo giovane. Abbiamo bisogno di risorse giovani, il territorio può offrire qualsiasi cosa, diciamo opportunità, andiamo avanti così.